Buongiorno, sono il dottor Salvatore Roccalto, specialista ortopedico e chirurgo della colonna vertebrale. Mi sono rivolto a Marchia di Medico per promuovere la mia attività, nello specifico la diagnosi e il trattamento chirurgico della disfunzione sacreliaca, patologia ancora molto poco conosciuta e responsabile di moltissimi sintomi invalidanti che vengono scambiati per patologie di altri distretti, portando a diagnosi e trattamenti chirurgici errati. Sono molto soddisfatto della mia scelta perché sin da subito ho trovato un team di professionisti all'altezza delle mie esigenze, capaci, competenti, seri e disponibilissimi ad ascoltare e accogliere ogni mia richiesta. Per tutti questi motivi sono molto felice di consigliare marketing medico a tutti i colleghi che hanno l'esigenza di promuovere in modo professionale e serio le proprie attività.